E adesso qualche bella foto della corteggiatrice calabrese Silvia Raffaele che è nata a Catanzaro il 14 luglio del 1990. Sinceramente abbiamo saccaggiato la qualunque per capire chi realmente sia nella vita Silvia Raffaele ma a quanto pare la corteggiatrice di Fabio Coloricchio non ha nessun scheletro nell'armadio. Insomma non è ragazza immagine, non fa serate, non ci risulta che sia iscritta a nessuna agenzia, non ha fatto book fotografici, insomma potrà o non potrà piacere altronista di uomini e donne Fabio Coloricchio, ma il suo interesse appare assolutamente sincero. L'unica nota che trapela è una grandissima passione che la ragazza sembra avere nei confronti del pianoforte dove è un'ottima pianista. Come sempre staremo a vedere sempre attenti e sempre vigili su Silvia Raffaele per il momento vi lasciamo con queste sue foto.